oggi siamo al mercato del forte il famoso mercato del forte del mercoledì oggi si fa un po di shopping tra le bancarelle e boni è molto contento la faccia della felicità e per fortuna non abbiamo comprato ancora niente ecco ma non compreremo niente facciamo i bravi però prendiamo un po d'aria e stiamo un pochino al sole meno male io vado al mare infatti forse è meglio andare un po al mare a 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 mercato visto adesso dove andremo stranamente soprattutto mercato visto e non comprato niente non comprato niente siamo stati bravi e adesso dov'è che andiamo generalmente noi quando abbiamo cinque minuti in montagna al mare sempre al mare anche attra a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo un buon punto. Quindi abbiamo deciso di venire al mare. Oh, che relax. È freddo il mentale adesso. Buonanotte. Si sta molto bene. C'è un po' vento, un po' freddo questo vento, però si sta bene. Ci sono le bagliere che fanno venire. Aspetta che cerca il telefono. Sto spillando. Non arriverò mai. Impara l'arte e mettila da parte. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.